Gli investigatori della sezione criminalità diffusa della squadra mobile di Cagliari, nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, hanno sequestrato un locale adibito a centro massaggi situato in una zona centrale del capoluogo sardo. All'interno del centro, giovani ragazzi asiatiche esercitavano la prostituzione ed i contatti e le trattative avvenivano mediante utenze pubblicizzate in siti di escort. Due donne di nazionalità cinese di anni 56 e 33 sono state denunciate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2.000 euro nascosti dentro un cuscino, oltre a due telefoni cellulari usati per ricevere le chiamate dei clienti.